Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio condividere con voi una dashboard che per me è una gran figata, non che porti chissà che in più rispetto a quello che offre i C-Mab e gli HUD che trovate sui vostri simulatori, ma il bello è che qui è un dispositivo che è realmente presente sulle auto che lo posseggono, stiamo parlando di RaceLogic ragazzi, questo qua, che è un raccoglitore di dati molto semplice, molto elaborato e semplice, che dà il pilota dei dati istantanei molto importanti per migliorare le proprie performance, stiamo parlando del Delta rispetto al suo Personal Best, stiamo parlando di velocità di punta in alcuni punti del circuito, insomma delle informazioni molto importanti che in una macchina reale esistono, perché RaceLogic ragazzi è un box realmente installato, infatti, se adesso lo faccio inquadrare, alla destra probabilmente molti di volte non se ne sono mai accorti, oppure vedevano soltanto un data display che fa vedere i tempi sul giro, ma in realtà questo è un multifunzione, d'accordo, ed ecco perché ve lo sto segnalando, che sul gioco non lo sfruttiamo, in realtà vi dico la verità, non sono neanche andato a guardare se c'è un tasto che è configurabile per andare a cambiare eventualmente questi dati, ma allora perché ve lo segnalo, visto che comunque l'HUD tutti questi dati ve li dà, più o meno, ma proprio perché per una questione di simulazione, questo è realmente presente nelle auto vere ragazzi, ecco perché ve lo segnalo, è presente sulle auto vere, quindi chi vuole simulare, tecnicamente si dovrebbe togliere tutto l'HUD e si dovrebbero mettere solo le strumentazioni che sono presenti nelle auto, ovvio che è molto più facile avere un HUD come è presente in questo momento che vi sto facendo vedere, perché abbiamo tutto a porta di mano, le marce, le cose, le gomme, eccetera, ma i piloti reali non ce li hanno, la temperatura delle gomme è solitamente l'ingegnere di pizza che glielo dà, i tempi, il delta, eccetera, però questo race logic è presente, quindi è per simulare che figata, allora come si fa? basta installare due dashboard e per chi utilizza Simam è molto semplice, uno lo installa, adesso ve lo faccio vedere comunque, e se lo va a richiamare sul cellulare o tablet, ma anche su un monitor secondario, che però secondo me sconsiglio, perché proprio per questa funzionalità dello scroll, per cambiare i dati disponibili proprio che dà questa dashboard, e anche un po' per simulare ragazzi, perché avercelo così lì davanti e poter andare a scorrere, anzi così, andare a scorrere e vedere quelle che sono informazioni importanti e cruciali per il vostro tempo sul giro è molto figo, però si può fare su un monitor secondario, si può fare su dove si vuole, come le funzionalità che offre Simab, sempre, però per installarlo qui dentro, anzi sono uscito, prendiamo l'altro race logic, e quindi come dicevo, per poter utilizzarlo, ovviamente il vostro cellulare, tablet o quello che è, deve essere collegato alla stessa rete in cui si sta eseguendo appunto Simab, io in questo caso ce l'ho sul mio pc e il mio telefono è collegato sulla stessa rete domestica del mio pc ovviamente, altrimenti non funziona, per poterlo richiamare questo, per poter richiamare questa dashboard dopo l'installazione, e adesso vi faccio vedere tutto, la prima cosa da fare è andare a scaricare i file che vi ho messo in descrizione, d'accordo, quindi basta scompattarli, estrarli, quello che volete, e vi ritrovate con questo file, basta cliccarci due volte perché ovviamente avete, sicuramente dovete installare Simab, d'accordo, vi lascio anche il link di Simab, lo installate e poi qui come vedete dice importare dentro Simab la libreria di Simab, basta dire sì, ci clicco e dice guarda, la Dash in questo momento mi dice che già esiste, io dico vabbè riscrivi, e mi dirà installazione fatta con successo, quindi fatto questo, quindi faccio la stessa operazione per entrambe ovviamente, entrambe i file, apro Simab ragazzi, eccolo qua, come potete vederlo, e mi ritroverò nelle Dash Studio, queste sono in Last User perché le ho appena usate, ma solitamente le trovate qui sotto, le ultime installate, d'accordo, e ce l'avete qui sopra, e per andare ad eseguirlo sul telefonino basta fare Start e mandarlo su telefono o tablet, a questo punto lui non fa altro che dirvi che cosa, guarda che ti devi solo collegare a questo indirizzo qui, quindi vi collegate con il vostro browser, con questo indirizzo IP, in questo caso il mio è 192.168.136, con la porta 8888, oppure si può fare lo scanner del QR code che vi apre direttamente questo indirizzo IP, fatto questo vi ritroverete con l'applicazione sul vostro cellulare, E niente ragazzi, sono contento di avervi condiviso con voi queste due dashboard di Simab, nell'esperienza che vi sia piaciuto, e beh, se è il caso non esitate a lasciare un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina come al solito, noi ci vediamo prestissimo, e da Fabrice è tutto, ciao!